Salve, la puntata precedente abbiamo parlato con la dottoressa Maria Gabriella Coniglio, neurologa dell'azienda ospedaliera Madonna delle Grazie di Matera, della sclerosi multipla. La dottoressa ci ha spiegato cos'è la sclerosi multipla e quali sono le indagini messe in campo per poterla diagnosticare. Oggi chiediamo alla dottoressa come si può curare la sclerosi multipla. La sclerosi multipla fino a qualche anno fa era incurabile, si diceva che fare una diagnosi di sclerosi multipla e attendere una terapia era la morte del neurologo. Questa non è la situazione attuale perché invece grazie a Dio è una delle patologie più studiate e per la quale ormai ci sono una serie di farmaci che sono capaci di modificare il decorso di malattia. I farmaci più in uso e di cui ormai si ha anche grande certezza su circa la sicurezza sono gli immunomodulanti. Parliamo dell'interferone, parliamo della tiramera acetato. Ma adesso sono ormai riconosciuti per il trattamento della patologia altre classi di farmaci. Gli immunosoppressori, mitoxandone, aciclofosfamide o gli anticorpi monoclonali come adesso abbiamo il natalizumab che sono farmaci di uso e di seconda scelta perché sono di prima scelta ma nelle forme molto aggressive perché sono farmaci la cui sicurezza a distanza ha delle domande. Però sono anche in uscita una serie di farmaci come il fingolimod che in fase pre-marketing stiamo già utilizzando ma è un farmaco per via orale, l'unico adesso per via orale, sempre con un meccanismo immunosoppressivo e sono nell'arco del 2012-2013 avremo tutta un'altra serie di molecole. Ora sono farmaci nuovi con una efficacia molto superiore anche a quella degli interferoni. Naturalmente con dei limiti di sicurezza per cui per questi farmaci c'è aperto un registro AIFA per cui la prescrizione è legata a persone esperte in sclerosi multipla e soprattutto c'è un sistema di vigilanza estrema per gli effetti su di linfopenia, per alcuni, disturbi di tipo trombotico, per altri. Per cui sono dei farmaci la cui sicurezza va monitorata. Questo perché gli effetti secondari possono essere importanti, ma questo anche perché abbiamo sicuramente dei farmaci come per esempio gli immunomodenti che abbiamo parlato, in cui è ormai evidente che riescono negli studi prospettici, hanno dimostrato che si riesce a quasi bloccare la malattia nel 20-30% dei pazienti con una sicurezza estrema perché si è notato che non hanno problemi sulle gravidanze, non hanno problemi al momento di incidenza di tumori, quindi sono farmaci che ormai maneggiamo da anni con una certa sicurezza e con una loro efficacia. Sicuramente ci sono pazienti con una malattia molto aggressiva e lì allora il rischio di un farmaco che è molto più efficace, però appunto è noto il problema dell'euconcefalite multifocale che è un evento che può ricorrere in corso di terapia col natalizum, generalmente ricorre con un rischio molto elevato verso la fine del secondo anno di trattamento, ma adesso grazie a Dio si sono messi a punto tutta una serie di indagini che ci permettono di dare con un minor rischio il farmaco, cioè per esempio adesso prima di iniziare una terapia con questo anticorpo monoclonale, visto questo rischio è possibile fare in Germania un dosaggio di anticorpi anti-GSV che è il virus che provoca quella malattia, quindi in chi non ha questo virus si può procedere con più tranquillità, però il rischio permane anche se minimale. Quindi sono farmaci che hanno questi problemi di sicurezza, ma per i quali si sta anche trovando tutto ciò che possa permettere di utilizzarli in sicurezza. Quindi c'è una buona prospettiva insomma. Benissimo, ringraziamo la dottoressa Maria Gabriella Coniglio e come possiamo vedere la medicina fa passi da gigante anche per malattie un tempo davvero in fausti come la sclerosi multipla. Arrivederci alla prossima puntata.